E dunque, l'immagine di cui volevo parlarvi è che mi dà lo spunto per un primo video non molto lungo, al quale seguirà una trattazione più avanti, a Dio piacendo, più esaustiva sull'argomento palo o croce. Come sapete è una delle sostituzioni operate in epoca Rutherford per eliminare dall'immaginario collettivo dei cristiani, che poi lui voleva insomma attirare alla sua organizzazione, anche la croce doveva essere cancellata dall'immaginario. Quindi non più croce ma palo, come tante altre cose delle immagini care alla Chiesa Cattolica ecco, dovevano essere sostituite. Al di là della precisione scientifica, archeologica, storica e anche filologica, perché porta degli argomenti che poi di fatto si rilevano inconsistenti e vedremo anche perché. Di fatto però questa immagine rappresenta, come vedete, dei cristiani crocifissi all'interno del Colosseo, probabilmente, prima di essere appunto sbranati dalle belve oppure arsi. Ma su cosa si basa questo dipinto di Jerome nel 1883? Beh, si basa su una testimonianza che abbiamo, importante. Ecco, questo l'ingrandimento è come si presenta il dipinto nelle sue dimensioni. Questa immagine è stata, proprio, viene rappresentata nell'opuscolo del 1990 sul sangue. Per fare la vita col sangue, in che modo? Probabilmente parlando di un argomento che non aveva a che fare con la croce, si sono distratti e hanno testimoniato con questa immagine quello che era la prassi romana. Molto, molto probabilmente la forma appunto della croce sulla quale fu crocifisso Gesù. E' un'immagine che c'era già nella teca della Voci Tower perché addirittura già Russell, nel fotodrama della creazione, vedete, l'aveva adoperata. Testimonianza importante sulla croce viene, ad esempio, da Tacito. Tacito, che in generale un'importantissima fonte extra biblica dell'esistenza e dell'attività dei cristiani, appunto, Tacito negli annali ci dice. L'origine di questo nome era Cristo, il quale sotto l'impero di Tiberio era stato condannato al supplizio dal procuratore Ponzio Pilato. E momentaneamente, sopita, questa essenziale superstizione di nuovo si diffondeva, non solo per la Giudea, focolare di quel morbo, ma anche a Roma, dove da ogni parte confluisce e viene tenuto in onore tutto ciò che viene di turpe e di vergognoso. Ecco, allora, Tacito che ci parla di questa superstizione, cioè dei cristiani, ci dice anche esattamente come fu affrontata questa pericolosa nuova insorgenza di questa setta, perché noi eravamo, i cristiani sono stati setta per il giudaismo e sono setta agli occhi dei romani, per i quali il problema non era l'esistenza di altri culti al loro interno, come sapete, ma il problema è che gli adepti di qualsiasi culto non bruciassero incenso agli dèi. Per il mantenimento del sistema sociale politico, Roma, si affidava molto agli dèi, quindi gli dèi tenerseli buoni era importante per il mantenimento dell'ordine sociale e dell'ipero stesso. Quindi chi si rifiutava di bruciare incenso? Il problema era proprio questo, che rischiava di attirare lo sfavore degli dèi. Avviene un incendio, come sappiamo, una teoria abbastanza diffusa, anche se ultimamente è stata un po' contestata questa versione che che Nerone sia stato colui che insomma abbia attribuito questo ai cristiani, però nella maggior parte dei libri di storia trovate questo. Nerone incolpò di questo incendio, questa folla che chiamava appunto cristiani e cosa successe? Che furono, dice Tacito, derisi ovviamente coperti di pelle di animali selvatici fatti a pezzi da cani oppure erano fissati sul croce, esattamente come si vede rappresentato da Jerome, che certamente si basa su questa testimonianza di Tacito, abbiamo detto. E infatti questo è l'originale, in latino, ecco, peruntibus ad Italudibria, venivano presi in giro, otto ferramum tergis contecti laniato canum interident, aut crucibus ad fixi, aut flammandi, cioè o gli veniva dato fuoco oppure erano fissi alla croce. Tore di guardia, dov'è il tuo problema? Cioè non mi veni a parlare del fatto che la croce è un simbolo pagano che è stato introdotto dalla chiesa ed operato. La forma dei patiboli, delle crocifissioni, era varia, certamente, ma tra queste è perché tu escludi quella che è la crux commissa o immissa, che vedremo fra poco. Interessante invece la testimonianza di Reneo, vedete, 120-200, per come è fatta la croce a cinque estremità, due in verticale, due in orizzontale e uno al centro dove riposava la persona fissata con i chiodi, perché c'era infatti poi lo sgabello dove si poggiava la vittima. E anche Tartulliana però ci dà una interessantissima testimonianza, addirittura sul segno di croce. Se ci mettiamo in cammino, se usciamo o entriamo, se ci vestiamo, se ci laviamo o andiamo a mensa, a letto, se ci poniamo a sedere, in queste e in tutte le nostre azioni ci segniamo la fronte con il segno di croce, non dice con il segno di palo. L'Enciclopedia Treccani ci dà un suggerimento interessante sulla croce di Cristo, con fondamento archeologico in effetti, un palo conficcato in terra, su quale veniva issato il condannato con le braccia già legate al patibulum, questa sbarra di legno passata dietro le spalle, che poi spesso era la sbarra che veniva usata per chiudere la porta dall'interno, tolta la quale la porta patebat, cioè rimaneva aperta. E infatti è proprio questo. Una volta inchiodate le mani al palo trasversale, che, attenti bene, è quello che Gesù conduce sul luogo, le testimonianze archeologiche ci parlano di uno stipes, cioè di un palo verticale già fissato sul luogo, sul quale poi, una volta arrivato il condannato, è fissato appunto inchiodato al patibulum, inchiodato al patibulum, veniva issato, issato, innalzato, innalzato, anche il filo dell'uno deve essere innalzato, sullo stipes, cioè sul palo verticale, capite? E quindi, dov'è di nuovo il tuo problema, torri di guardia, se questo significa che si veniva a formare il segno di croce? No, la croce era adottata, la chiesa, dopo, non potevano essere due palli incrociati, quelli sul quale fu crocifisso Gesù, perché questo significherebbe che Gesù sia stato, crocifisso su un simbolo pagano, veramente io non riesco a capire proprio come si faccia a, va bene, sono andato troppo avanti, mi sa, no, invece ci fermiamo proprio qua, no, ecco, no, volevo aggiungere questo, che spiegheremo in un video molto più dettagliato, che è anche molto, molto, molto improbabile che, come viene raffigurata nelle torri di guardia, il condannato, già tremendamente debilitato da una tremenda flagellazione, potesse portare l'intero palo verticale, che per sua natura doveva pesare anche, non so, 50-60 kg, perché la parte che veniva infissa nel terreno doveva assicurare la solidità dell'intera struttura, quindi doveva essere infissa almeno per un metro sottoterra, ci aggiungete anche l'altezza che veniva fuori, quindi il palo non poteva essere esile, come viene anche rappresentato nei disegni di attori di guardia, ma siccome qualcosa ha condotto sul luogo del supplizio, certamente possiamo dire, praticamente al 100%, che Gesù ha condotto sul luogo il patibulum, evidentemente il sato sul palo, quindi va bene anche la traduzione di Stauros o di Xilion come palo, perché comunque alla fine una croce forma. Ecco, ho spiegato come potevo senza tediarvi troppo, però in un altro punto video faremo una disamina più esatta delle argomentazioni dell'attore di guardia. Spesso poi mi si viene a dire, ma non è importante la forma, perché hai sostituito allora, se non è importante la forma, andava bene anche croce, senza tutta sta storia, insomma, sul palo. Grazie ancora. Io vi benedico.